Cosa ha un po' di 10 anni, non capisco Italia Zero, lì ma io anche Oscar, Stefano, buongiorno, sei in 5,9 qui in Paparone 0,99 Casatore di Fabiano Inferiore, 5,9 per te Sì, c'è un po' di sblatter adesso, comunque grazie di QSO 73, QRZ, Italia 4, Florida Eco, portatile Italia, qui in 4, Fox Eco, portatile, chiama CQ, CQ, Italia, quabe 4, Florida Eco, portatile, Italia, qui in 4, Fox Eco, portatile, chiama dalla referenza Castelli Italiani, Paparone 0,99, QRZ Scusa, la zona 2, Italia 2, Italia interrogativo 2 Scusa, Italia Università 2, Mike Charlie Hotel, Italia Uniform 2, Mike Charlie Hotel Sì, Italia Uniform 2, Mike Charlie Hotel, buongiorno, sei in 5,9 in Paparone 0,99, quest'è L Italia Università 2, Mike Charlie Hotel, se ascolti il Q4 FE, baratto portatile Sì, sì, arrivi con un segnalone fortissimo